Arrivano le mascherine, 94.000 mascherine sicure tra certificate e testate. Il tutto dopo le polemiche per le mascherine inviate dalla Protezione Civile Nazionale e dopo la lettera aperta degli ordini degli infermieri per chiedere dispositivi adeguati e indicazioni su quale utilizzare e dove. Le mascherine della Protezione Civile sono in attesa di validazione da parte dell'Istituto Sanitario, afferma Rossi. Ma siamo in emergenza sanitaria ed occorre distribuire in questo momento tutto quello che abbiamo. Sto comunque preparando un atto, assieme agli esperti dell'unità di crisi, per il corretto uso dei dispositivi. Sarà un vademecum che classificherà le mascherine in base all'efficacia e dirà quali utilizzare per ogni circostanza. Per quel che riguarda la Regione Toscana, proseguirò se attraverso Estar distribuiremo 40.000 mascherine a marcatura CE, idonee dunque a tutti gli effetti e 54.000 auto prodotte in Toscana, in tessuto o non tessuto, a triplo strato e con elastico, già testate dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze, di qualità certamente migliore rispetto a quelle della Protezione Civile Nazionale e che riceveranno, secondo le procedure, la validazione dell'Istituto di Sanità nelle prossime ore. Ieri erano già state distribuite 39.500 mascherine fatte in Toscana di Gualtipo e 95.300 della Protezione Civile Nazionale. Non è comunque il tempo delle polemiche, torna ad affermare Rossi e a tutti gli operatori sanitari inviamo il nostro ringraziamento e apprezzamento per il grande lavoro che svolgono ogni giorno. Il nostro impegno è massimo per consentire loro di continuare a lavorare in sicurezza e tranquillità. In questo modo, tutelando anzitutto la salute dei lavoratori, siamo certi che arriveremo fino in fondo e ce la faremo.